Le riviste culturali del primo novecento diffondono alcune delle più grandi opere di autori fondamentali come D'Annunzio, per esempio, Pirandello, Verga. Come si colloca la figura di Luigi Antonelli in questo contesto? Una considerazione intanto, perché il teatro di per sé come linguaggio funge per così dire da cassa di risonanza per la propria produzione anche narrativa. Pensiamo a Pirandello, la motivazione del premio Nobel metteva in luce proprio il suo contributo come drammaturgo. Certo, le riviste teatrali sono una vera e propria vetrina per la popolarità di Antonelli e dello scrittore italiano del primo novecento in generale, soprattutto dopo l'invenzione della stampa rotocalcografica, perché lo spazio dato all'immagine diventa cospicuo, per cui il volto in copertina di un'attrice, ad esempio un'attrice antonelliana come Elsa Merlini, fa schizzare in alto le vendite, anche perché nel frattempo la società italiana vede decrescere l'analfabetismo e quindi aumentare il pubblico femminile. L'uomo che incontrò se stesso segnò una svolta decisiva all'interno dell'itinerario della storia del teatro del primo novecento. In che termini? Antonelli è un nome interessante del teatro grottesco, il teatro italiano degli anni dieci, è compagno di strada di autori come Luigi Chiarelli, Bon Tempelli, Rosso di San Secondo, lo stesso Pirandello, ma certamente l'uomo che incontrò se stesso nel 1918 al Teatro Olimpia di Milano fu una commedia rivoluzionaria per molti aspetti. Il plot era interessantissimo, c'era un elemento fantastico, innestato nel grottesco, e cioè un uomo, Luciano, un uomo tradito, quindi una trama borghese, che torna indietro nel tempo, quasi con una sorta di macchina del tempo, per cercare di correggere gli errori commessi vent'anni prima. La tesi è che nessuno, neanche con l'invenzione della scienza, può cambiare il corso della propria esistenza. Fu un'opera molto lodata, per esempio, da Antonio Gramsci, proprio per l'arditezza della concezione, meno da una personalità autorevole come Silvio D'Amico, che trovò una sorta di dissonanza tra l'originalità della tematica e lo stile, diciamo, un po' da vaudeville. Quale può essere la modernità di Luigi Antonelli nella società della comunicazione? Come accade oggi con i prodotti dell'industria culturale, anche per Antonelli, si può dire che le sue opere rientrano nel processo transmediale, quasi, della comunicazione. Per esempio, prendiamo un'opera, La donna in vetrina, nasce nel 26 come novella, poi transita in teatro, viene portata in scena, poi ritorna fra le pagine dei periodici teatrali, una bellissima copertina dedicata agli attori e poi torna ad essere volume. Questo processo a volte va anche oltre, pensiamo ad un'opera di Antonelli, che è il barone di Corbò, che lui ridusse e sceneggiò per il cinema, per la regia di Gennaro Righelli, con una celebre attrice che è Diana Torrieri.